Parliamo di Drupace ora e partiamo dal pesco. L'acidia è in un momento dove possiamo anche considerarla non priorità, ma l'anarsia, le cui larve stanno nascendo, le cui larve quindi in definitiva stanno mangiando, va sicuramente tenuta d'occhio, quindi occhio alle trappole, il modello ci dice intorno all'80% di larve nate, ebbene in questi casi soprattutto dove non parliamo di confusione bisognerà monitorare le nostre trappole e al superamento della soglia intervenire ovviamente sempre in funzione dei tempi di carenza con i prodotti più indicati. Io parlerei ancora di Tiacloprid, Calipso, 14 giorni, due trattamenti ammessi, uno solo se sono già stati usati i neonicotinoidi, quindi per capirci se è già stato usato Confidoro oppure Coinor. Le alternative per fortuna sono alternative per lo più con l'impiego di prodotti a sette giorni di carenza, le dico velocemente perché ormai è da qualche settimana che ne parliamo, è Mamectina, quindi affirme due trattamenti all'anno, sempre sette giorni di carenza, Spinosad, Lazero, Sacces, tre interventi utili all'anno, e ancora il Trebonap che possiamo fare per due volte in un anno. A questi prodotti aggiungerei sicuramente, con la certezza di avere soltanto anarsia, tutti i prodotti a base di Bacillus thuringiensis che hanno mostrato in passato di avere un'attendibilità molto importante nella difesa dall'anarsia. Per quanto riguarda il pesco, soprattutto le netterine, io parlerei anche di una patologia fungina della moniglia, perché a differenza di tanti altri casi, questo fungo quest'anno sta creando qualche grattacapo. Abbiamo avuto qualche partita in raccolta con presenza di moniglia e anche nelle prime fasi della conservazione la situazione non è proprio tranquillissima, per cui non sottovalutiamo il problema e nel periodo della preraccolta intervenire. I prodotti sono tutti quelli a base di tebuconazolo, quindi folicur o simili, con sette giorni di carenza, in alternativa con tre giorni di carenza, signum oppure bellis. Io chiudo questo mio angolo del medico delle piante per questa settimana con un'indicazione che riguarda il susino. E avete capito che sto parlando dell'acidia funebrana, perché anche in questo caso prevediamo di avere a breve larve da trattare. Si stima che all'inizio della prossima settimana abbiamo il 30% di larve nate, quindi il periodo ottimale per intervenire, con tiaclopridi, il calipso, che ha 14 giorni di carenza e un trattamento possibile all'anno. Se l'avete già fatto potete ricorrere a Fosmet o a Laser. Di Fosmet in un anno ne potete fare 4, di Laser ne potete fare 3. Con questo per questa settimana è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento con l'angolo dei medici delle piante per mercoledì prossimo. Grazie per la visione!